Buon di buona gente, sono Luigi in Artelusio e benvenuti a questa nuova video recensione e riallacciandomi all'ultima video lezione che ho fatto, quella dedicata alla scrittrice Mary Shelley, autrice tra le tante altre cose del famosissimo romanzo Frankenstein, oggi vi parlo del film che è stato realizzato sulla sua vita, o meglio sulla prima parte della sua vita, ovvero Mary Shelley, da noi giunto in Italia con il titolo... io detesto gli adattatori italiani, non so se si ha capito, il titolo qui da noi in Italia è Mary Shelley un amore immortale, scusate devono essermi cadute le palle da qualche parte, vabbè me le recupererò dopo, allora, film uscito nel 2017 diretto dalla regista araba Aifa Al Mansoor, con Elle Fanning nel ruolo di Mary Shelley e Douglas Booth nel ruolo di Percy Biss Shelley. Bene, ma andiamo con ordine. Prima di iniziare, piccola premessa, allora, non so quanti di voi, di quelli che di voi hanno visto il video che ho dedicato un mesetto fa ai film sulle sorelle Bronti, beh, casomai recuperatelo se volete farvi un'altra visione di me che parlo di qualcosa di più cinematografico. Bene, una cosa su cui io tra i film sulle sorelle Bronti sono stato molto 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 severo con il film Emily, film appunto sulla seconda delle sorelle Bronti, Emily Bronti appunto, uscito nel 2022 e diretto da Francis O'Connor. Allora, quel film fa schifo su tutta la linea, non allora, prima di tutto riscrive totalmente tutta quanta la vita di Emily Bronti, proprio la riscrive ex novo, non c'è una sola cosa se c'è, a parte i nomi dei personaggi e legami di parentela non c'è nient'altro di realistico, è tutto quanto rifatto ex novo e in più non azzecca nemmeno la psicologia e la poetica della protagonista di Emily Bronti. La Emily Bronti di quel film non è la vera Emily Bronti, ma nemmeno alla lontana, è come molte persone che non hanno mai nemmeno letto Cime Tempestose pensano che fosse Emily Bronti, quindi una ragazza bella e dannata che si drogava, che si ubriacava, che aveva avuto una relazione passionale perché ovviamente per aver scritto Cime Tempestose non puoi non aver conosciuto la passione perché sì, Cime Tempestose è una storia d'amore, dimmi che non hai letto Cime Tempestose senza dimmi che non hai letto Cime Tempestose. Bene ragazzi, quel film quindi fa schifo. Ora, perché ho fatto questa premessa? Perché questo film su Mary Shelley è proprio l'esatto opposto del film su Emily Bronti. È un film che coglie perfettamente la psicologia e l'essenza e soprattutto la poetica di Mary Shelley. Cambia anche lì, ovviamente, ci sono delle variazioni di trama, dei cambiamenti, però non siamo ai livelli di riscrittura totale del film Emily. In Mary Shelley ci sono ovviamente delle omissioni, dei piccoli accorgimenti, dei piccoli aggiustamenti, chiamiamoli così, atti unicamente a rendere la narrazione più fluida. E io lo posso capire, già non vi dico ad esempio quando devo preparare gli script per le mie video lezioni, quanto alle volte io mi trovi in difficoltà perché ci sono storie che sono molto complesse, ci sono avvenimenti che si accavallano uno dietro l'altro e risulta molto difficile esporle in una narrazione che sia fluida e che non, diciamo, non faccia perdere la concentrazione a chi ascolta. Quindi, da un punto di vista dell'adattamento, lo posso anche capire il perché di simili accorgimenti. Alcuni non posso dire di averli apprezzati, altri invece ho capito che comunque erano necessari per ovvie ragioni. Allora, partiamo però dall'inizio. Allora, di cosa parla questo film, questo Mary Shelley, Un amore immortale? Vabbè, fate conto. La storia inizia con la nostra Mary a 16 che si dibatte tra le costrizioni dell'ambiente domestico in cui si trova a vivere. In questa famiglia in cui ci sono lei, il padre, la matrigna, la sorellastra e il fratellastro. Con la sorellastra e il fratellastro ha un rapporto idilliaco. Loro amano sentirla raccontare delle storie da brividi, storie di fantasmi. Mentre invece il padre è molto fiero di lei e soprattutto considerando che l'avere come proprio la perfetta rappresentazione non solo del suo personale genio letterario, ma anche di quello della sua defunta madre, la famosa scrittrice e pioniera del femminismo Mary Wollstonecraft. Alla cui tomba Mary si rifugia sempre quando vuole leggere o quando prova a scrivere i suoi primi tentativi letterari. Diverso invece è il rapporto con la matrigna, molto più castrante. La matrigna che vorrebbe che lei perdesse meno tempo a fantasticare, più tempo a lavorare nella biblioteca di famiglia, perché ovviamente non si campa di solaria, non si vive di soli sogni, ma bisogna portare anche un po' di soldi in casa per mangiare. E per questo motivo, per un po' anche per arginare i contrasti tra figliastra e matrigna, il padre decide di mandare la figlia Mary in Scozia da certi loro amici, i Baxter. E proprio dai Baxter Mary fa la conoscenza del giovane poeta emergente Percy Biss Shelley e tra loro scoppia subito la scintilla, tant'è che quando lei ritorna a Londra, poco dopo la raggiunge anche Percy che è desideroso di mettersi sotto la tutela del padre di Mary, William Godwin, che per lui è praticamente il suo padre spirituale, il suo nome tutelare dal momento che in passato William Godwin è stato promotore di quella filosofia rivoluzionaria alla quale Percy Biss Shelley si rifà grandemente, sia a livello di stile di vita che a livello di poetica personale. Tra loro le cose sembrano, tra Mary e Percy le cose sembrano andare bene, tra loro l'amore che sembra ormai imminente, se non che si scopre che Percy è già sposato ed è anche padre di una figlia, cosa che ovviamente getta Mary in un ben stato tra il confuso e soprattutto il deluso, ma alla fine un po' l'amore, un po' anche Percy che la convince del fatto che tra lui e sua moglie non ci sia più amore e lui in realtà vuole stare con lei, alla fine i due decidono di scappare e li segue anche Claire, la sorellastra di Mary che non vuole essere lasciata da sola in quell'ambiente familiare oppressivo. Così i tre iniziano una vita vagabonda ed errabonda nel quale purtroppo Mary finisce subito per perdere le illusioni un po' anche infantili del suo sogno d'amore e i tre si ritrovano a scontrarsi con una serie di difficoltà economiche, dovendo vivere in ambienti poveri e quando riescono ad avere un tot di benessere subito dopo devono fuggire dai creditori e soprattutto il dramma scoppia quando Mary finisce per perdere, la finisce per vedersi morire tra le braccia, la prima figlia avuta da Persi che muore perché durante una fuga dai creditori, mentre la bambina è già malata e ha la tosse, sono costretti a scappare sotto la pioggia facendo prendere freddo alla figlia e aggravando le sue condizioni e alla fine la neonata purtroppo morirà. E questo senso, questa prima perdita si associerà a vari sogni in cui lei sogna di vedere la figlia ritornare in vita e poi unito poi ad altre cose tipo l'andare ad assistere agli esperimenti del galvanismo sull'elettricità che riesce a, sembra poter ridare la, non dico la vita ma, beh gli esperimenti del galvanismo poi li conosciamo, ovvero si collegavano i elettrodi di ferro alle zampe di rana e quelle grazie all'elettricità si muovevano dando quindi l'illusione che queste zampe di rana fossero senzienti e vive. E poi le cose ulteriori cambiano ancora di più quando i tre, grazie anche un poco agli intrallazzi di Clare, si ritrovano ad andare in Svizzera a Villa di Odati a imbucarsi come ospiti di Lord Byron, uno dei più grandi poeti dell'epoca. Ed è proprio in quest'ambiente che un po' il rapporto tra Mary e Persica è quasi ai ferri corti, i dialoghi tra Mary e il dottor Polidori, i sogni incubi orrorifici in seguito ai racconti di fantasmi, la visione totale su tutto quell'universo di, su quel mondo che lei, che Mary pensava fosse pieno di ideali, di grandi sogni, di grandi aspettative, in realtà si scontra con una realtà molto più triste, con una marea di disillusioni e di delusioni, alla fine inizia a parturire l'idea per quello che sarà il suo capolavoro, ovvero Frankenstein. Ma non finiranno qui le difficoltà di Mary che si ritroverà purtroppo a scontrarsi con un universo editoriale che la giudica in quanto donna che scrive più che giudicare la sua opera, infatti come dirà lei al primo editore che rifiuterà di pubblicare il suo romanzo, lei dirà avreste compreso davvero l'essenza del mio romanzo se invece di perdere tempo, se aveste speso il vostro tempo a giudicare il mio libro invece che giudicare me. Non vi dico altro, spero già solo con questo che vi aver incentivato voi la voglia di vedere questo film qualora non l'abbiate visto. Allora, è questo un po' la trama per sommeriche che vi ho praticamente raccontato tre quarti del film, però vabbè, senza scendere troppo nei particolari, senza spiegare bene nel dettaglio varie cose, soprattutto ragazzi senza ancora dirvi che bella, che belle interpretazione io mi sia trovato davanti, specialmente da parte dell'attrice protagonista, Elle Fanning, secondo me una delle migliori promesse della nuova cinematografia, perché veramente ragazzi Elle Fanning nonostante sia giovanissima, adesso mi pare abbia 26-27 anni, dovrebbe avere, comunque non ha nemmeno 30 anni, quindi figuratevi. Quando ha recitato in questo film aveva malapena 20 anni, quindi comunque si trovava proprio, era adatta per il ruolo della giovane Mary Shelley. Poi, a parte il fatto che Elle Fanning ha sempre questo viso dai tratti molto infantili, molto fanciulleschi, sembra quasi un'eterna bambina, però ha questo sguardo così adulto, così maturo proprio che, non lo so, ha questo viso da sfinge, da quasi alieno mi verrebbe da dire, ha questo fascino che è tutto dagli occhi, secondo me, è derivato proprio dagli occhi, che sono in contrasto con i tratti dolci del suo viso. Lei ha uno sguardo adulto in un viso da molto fanciullesco, ed è perfetto per un personaggio come quello di Mary Shelley, che deve rappresentare tanto una ragazza, non ancora una donna, ma una ragazza, che ha avuto talmente tante già un bagaglio tale di esperienza da essere ormai praticamente già una donna adulta, con un suo vissuto, ne ha passate talmente tante in così pochi anni, che ormai lei a 19 anni già non aveva più nulla da raccontare a nessun altro, e Elle Fanning lo esprime perfettamente. Io penso che questa sia stata, non dico una delle sue interpretazioni migliori, perché, cioè, se dovessi elencare tutte le ottime interpretazioni di Elle Fanning, cioè, raga, non la finirei più. Trovatemi voi un'interpretazione fatta da Elle Fanning che non sia stata eccellente. Cioè, la serie tv su Caterina II, ragazzi, la retta praticamente lei sulle sue spalle, veramente, una cosa incredibile di trovatemi un ruolo che lei non sappia interpretare. E bene, quindi buona parte del film lo fa lei, lo fa lei con la sua recitazione, con la sua recitazione sia verbale che espressiva. Elle Fanning ti sa raccontare tutto il dramma di una donna, di una ragazza, di una madre, di una scrittrice, di una donna disillusa, di una donna che pensa, sogna sua figlia, sogna di rivederla e lo esprime sia con i gesti, con gli sguardi e soprattutto con le parole. Guarda, io, mamma mia, mi viene il magone se ripenso a quella scena che veramente mi aveva fatto piangere quando la vedi la prima volta, veramente bellissimo. e poi c'è una grande sintonia anche con il resto del cast, specialmente con l'attrice che interpreta la sua sorellastra Claire, ovvero Belle Pauley, e soprattutto, paradossalmente, bella, ottima, la chimica che si vede nelle poche scene tra Mary Shelley e Lord Byron, qui interpretato magistralmente da un bravissimo Tom Sturridge, per chi non lo sapesse, è quello che fa Morpheus nella serie tv Sandman, ma anche lui ha fatto tante altre cose, qui interpreta Lord Byron, perfetto anche lui, ottimo fisico di un ruolo perché c'ha l'aria da questo poeta romantico, bello e dannato, violento, quasi, mi verrebbe da dire, quasi pazzo sociopatico, e le scene, le poche scene in cui loro interagiscono per me sono perfette, secondo me restituiscono perfettamente quello che doveva essere stato un po' il rapporto tra Mary Shelley e Lord Byron, allora, che fu un rapporto complicato, più che altro perché loro non ebbero mai veramente un'amicizia solida, più che altro fu un'amicizia per interposta persona, il vero amico di Lord Byron era Percy Shelley, il compagno e poi marito di Mary. Mary non ebbe mai molta stima di Lord Byron, diciamo un po' molto, qua usciva fuori il suo essere tradizionalmente British, quindi non lo stimava particolarmente come persona, come individuo, mentre invece Lord Byron, probabilmente perché lui aveva la vista lunga, ma stimava tantissimo Mary, non solo come donna ma anche come autrice, e infatti guarda caso, quando dopo la morte di Percy, Mary venne praticamente ostracizzata da tutti, tutti quelli che prima le, quando al tempo in cui Percy era ancora vivo, la trattavano come un'amica, la trattavano bene, la trattavano con tutti i riguardi, con la morte di Percy la abbandonarono a se stessa, nessuno le prestò, le diede una mano, nessuno l'aiutò, anzi le remarono tutti contro, le sparlarono alle spalle, dissero che era stata una pessima moglie per Shelley, Lord Byron fu l'unico che prese le sue difese, l'unico che disse, non la sottovalutate, lei sarà una che avrà ragione del tempo, lei e le sue opere, e in effetti fu un ottimo profeta Lord Byron. Bene, qui, come vi ho detto in questo film, ci sono poche scene tra loro due, forse sono giusto due o tre scene, delle quali solo una è veramente incentrata solo su loro due, ed esprime perfettamente questo rapporto molto ambivalente, con Mary che guarda sempre con molta diffidenza e quasi con disgusto Lord Byron, e Lord Byron che la guarda proprio da pari a pari, la guarda appunto come un poeta, guarda un'altra poetessa, proprio con grande stima, infatti l'ultima parola che lui le rivolge è, non vedo l'ora di leggere le sue opere, spero di leggere presto, già capendo, e qui si vede quanto Lord Byron capisca Mary molto più di Percy, Percy Shelley che qui è interpretato da Douglas Booth. Allora, probabilmente mi attirerò l'odio di qualche fan, ma Douglas Booth come attore non mi ha mai detto nulla, sinceramente l'ho sempre visto molto amorfo, molto abulico, poco espressivo e francamente non vedo nemmeno tutto questo gran talento, diciamo che mi ha sempre dato quell'impressione dell'attore che viene messo lì soltanto perché è bello e la sua presenza attira magari il pubblico femminile in sala, o il pubblico anche gay, perché magari c'è chi piace. A me sinceramente non mi ha mai detto nulla come attore, come interprete. In questo film un po' di più magari, ma giusto perché all'interno della narrazione del film, ed è chiaro proprio dalla scelta della regista, Percy deve risultare come l'antagonista del film. Attenzione, ho detto l'antagonista, non il villain. Percy in questo film non è mai crudele, non è mai violento, non è cattivo nei confronti di Mary, no. Però capiamo che è l'antagonista perché è forse l'ostacolo maggiore nel percorso di Mary. Se Byron, come vi ho detto, è uno che capisce subito il talento di Mary dopo averla anche solo vista e dopo averci parlato solo poche volte. Percy, pur non soffocando mai l'estro poetico e artistico di Mary, non sembra mai prenderla sul serio. Lui la incentiva a scrivere, la invoglia a scrivere, però non va mai oltre il semplice dai fallo, scrivi, scrivi, devi esprimere anche tu il tuo pensiero, ma per il resto non sembra mai comprenderla appieno. E lo capiamo nei momenti proprio più drammatici. Già quando lei scopre che lui è già sposato e ha una figlia, lui sembra più che altro desideroso unicamente di far capire che in realtà il suo matrimonio non è nulla di che, lui non ama sua moglie, la sostiene soltanto per senso del per correttezza eccetera, ma che in realtà lui ama Mary, le esprime tante di quei sentimenti amorosi, ma che sembrano unicamente fini a se stessi. Per il resto Percy non esprime mai davvero il suo amore per Mary, lo esprime in una maniera molto banale dicendole quanto la ama, quanto è felice con lei, ma per il resto quando dovrebbe davvero esprimere il suo amore, quando ad esempio muore la loro figlia e vede che Mary è chiaramente in uno stato tremendo, la vediamo sdraiata su un fianco, sul letto, totalmente incapace di piangere e quando dopo una perdita tu non riesci a piangere, io penso che il non riuscire a piangere sia forse la forma più estrema del dolore, perché almeno con il pianto tu il dolore lo cacci fuori, ti sfoghi. Quando non riesci a piangere è orribile, vuol dire che forse stai soffrendo più di quanto non dovresti, più del dovuto, in maniera probabilmente dannosa per te stesso e vedendo, e qui si vede anche il contrasto, Percy piange per la morte della figlia, lo vediamo in lacrime e qui si vede proprio il contrasto tra Mary sdraiata sul letto, con lo sguardo vuoto, incapace di piangere e lui che invece piange e l'unica cosa che sa dirle è, ti prego Mary non lasciami anche tu, ho bisogno, non posso stare da solo, sto soffrendo anche io per lei, per nostra figlia, che ti credi? E c'è, dice tantissime cose sbagliate, nel momento in cui lui dovrebbe dimostrare il suo amore proprio stando vicino a Mary, comprendendo il suo dolore, l'unica cosa che riesce a fare è concentrare il dolore su se stesso, dice anche io sto soffrendo, è una cosa che proprio tu non puoi dire a una persona che vedi che sta soffrendo, è sbagliatissimo, per quanto sia vero quello che dici, non lo puoi dire, è sbagliato, non è una persona che allora, se tu ami veramente una persona e state condividendo un dolore, dirle anche io sto soffrendo, come a dire io sto soffrendo tanto e forse anche più di te, non puoi farlo, non è così, e poi per tutto il resto della pellicola vediamo quasi questa eterna lotta tra Percy e Mary, Mary che comunque a un certo punto prende e inizia ad andare per conto suo, perché capisce che da Percy non avrà mai più di un semplice banalissimo sostegno, quindi lei capisce di doversela cavare da sola, anche e soprattutto quando ci viene lasciato chiaramente intendere che Percy ogni tanto molla il letto di Mary per stare con la sorellastra di Mary, Claire, e dall'altra quindi vediamo un Percy che molto più edonista come infatti fu, era, Percy è stato un grande poeta, su questo non ci sono dubbi, purtroppo come persona non era sicuramente la persona più corretta, purtroppo era il tipico rivoluzionario con i soldi di papà, il comunista che si porta il Rolex al polso, per dirla con una definizione che oggi conosciamo sicuramente, come dire, sì, ok, ho capito, i grandi ideali rivoluzionari, l'amore libero, il vivere al di fuori dei contesti, però intanto vuoi vivere bene e vivi con i soldi che tieni dalla tua famiglia ricca, scappi dai creditori perché sei consapevole che questi se ti prendono ti arrestano, ti mandano in prigione per debiti, se ti perdi in un bicchiere d'acqua di fronte alle difficoltà o ti ubriachi o piagnucoli o te ne scappi, è ovvio che quindi Percy a un certo punto risulta veramente lo scoglio maggiore per Mary, per Mary che alla fine compone la sua opera proprio per parlare, di gridare al mondo la sua rabbia per questo valanga di illusioni. Lei nasce a inizio film come questa ragazza idealista che vede questo giovane poeta e lo trova come un suo spirito a fine, come la sua anche chiave per scappare via da quell'ambiente soffocante che è il suo ambiente domestico, salvo poi rendersi conto che si è ritrovata in un ambiente altrettanto soffocante anche se in maniera diversa. E quando anche vediamo il dialogo tra Percy e Mary, in cui Mary gli ha fatto leggere la prima bozza del suo romanzo, vediamo un Percy che comunque la sostiene, la sollecita, è impressionato dalla sua opera, però dice perché deve essere così cupo, perché così pessimista, perché la creatura deve essere un mostro, il dottor Frankenstein non potrebbe aver creato la creatura perfetta, la creatura bellissima, un angelo, così da portare speranza nell'umanità. E Mary lo guarda e dice, scusa ma lo vedi dove viviamo? Viviamo in una catapecchia, questi sono i grandi ideali, a questo ci portano, io non sto portando le illusioni, i sogni, io sto portando la realtà, questa è la realtà. E qui si vede proprio la lotta tra questi due individui molto forti. Alla fine avviene una riconciliazione tra loro due, ma è una riconciliazione molto basica, che secondo me anche in linea con quello che voleva raccontare l'autrice, è messa lì soltanto per una questione narrativa, perché comunque l'autrice, e qui si vede la differenza tra Aifa Almanzor e Francis O'Connor per quanto riguarda il film su Emily Bronti, Aifa Almanzor ha studiato la vita e le opere di Mary Shelley, a differenza di Francis O'Connor che non ha studiato la vita di Emily Bronti, non si sarà nemmeno degnata di leggere davvero bene, di studiare Cime Tempestose. Aifa Almanzor era comunque consapevole della vita che stava raccontando, era consapevole che Mary Shelley è stata comunque una donna che ha vissuto anche per il marito, per Percy Shelley e anche per la sua memoria, quindi sapeva che non poteva far finire il film con loro che stavano perennemente in urto, in lotta, doveva metterci la riconciliazione per creare comunque una linearità narrativa con quella che è la storia vera, ma è messa lì unicamente per un po' anche magari per fare contento il pubblico che vuole comunque il lieto fine per la coppia di innamorati, ma in sostanza il vero lieto fine per Mary è il fatto che lei si vede riconosciuta la sua identità di scrittrice, infatti il film non si conclude con la riconciliazione di Mary e di Percy, ma con Mary che vede che la sua opera viene pubblicata con il suo nome, non con l'anonimo come venne pubblicato in realtà, nella realtà, quindi infatti Frankenstein uscì scritto da autore anonimo. Il vero finale, che è anche il vero lieto fine per Mary, è vedere il suo libro pubblicato così con sulla copertina Frankenstein o il moderno prometeo di Mary Shelley. Questo è il vero lieto fine, il riconoscimento di lei in quanto individuo, di lei in quanto scrittrice e soprattutto la sua opera che viene letta e amata da tutti. Bellissimo poi anche il modo in cui viene descritta questa opera, ad esempio come quando Mary fa leggere il suo manoscritto alla sorellastra Claire che in lacrime lo dice e dice esattamente quello che ogni lettore che legge Frankenstein alla prima volta pensa ed è quello che ho pensato anch'io, infatti io mi sono riconosciuto molto in quello che dice Claire, ovvero che l'ha terrorizzata questo romanzo, ma a un certo punto l'ha anche presa tantissimo e lei ha desiderato la vendetta della sua creatura, della creatura di Frankenstein, ha voluto che lui si vendicasse ed è veramente quello che io mi sono rivisto perché è esattamente quello che io ho provato come lettore quando lessi la prima volta Frankenstein, quando l'ho lessi per la prima volta che avevo 15-16 anni io mi spaventai a morte e interruppi la lettura perché non ce la facevo ad andare avanti, ma non per la storia insieme perché c'era talmente tanto odio, tanta passionalità proprio che mi sembrava troppo per me e quando l'ho lessi poi che avevo 18-19 anni, alcuni anni dopo avevo 18-19 anni, guarda caso le tue età in cui Mary aveva iniziato a scrivere e poi quando l'ha pubblicato, manco a dirlo, e mi sentivo proprio in empatia non con Frankenstein ma con la creatura, a un certo punto io ho detto sì ti prego, vendicati, prenditi quello che la vita ti ha negato, prenditelo anche con la forza, devi prenderti quello che la vita ti ha negato, è veramente ed è una cosa che fa paura perché tu dici ma sono delle mostruosità, sta facendo delle cose orribili, però dici sì ma il mondo come l'ha trattato e adesso il mondo ha quello che si merita ed è veramente faceva uscire fuori il mostro che c'era dentro di me quella lettura e secondo me è proprio quello che Mary Shelley voleva suscitare nel lettore quando ha scritto quell'opera e vedete e questo film proprio te lo racconta perfettamente, ti racconta come Mary è diventata la sua creatura, come Mary ha accumulato tutto questo malessere, come lei ha voluto vendicarsi di questo mondo, di questi sogni, di queste illusioni ed è stato qualcosa di bellissimo, è molto catartico questo film a un certo punto veramente, specialmente sul finale, poi da un punto di vista poi di atmosfera è fatto veramente bene, ci sono le atmosfere proprio di tipicamente un po' Regency ma anche molto romantiche e decadenti, quasi gotiche, con questo stile Regency che spicca ma non ha quel colore pastelloso, vivace che potresti trovare nella storia di Jane Austen o negli adattamenti cinematografici dei romanzi di Jane Austen dove tutto è luminoso, tutto è colorato, no è tutto grigio, cupo, bagnato dalla pioggia, è appunto gotico, romantico come deve essere proprio calato, perfettamente calato nello stile, non è corretto al 100% come film, però le libertà che si prende il film sono veramente poche alla fine sono giusto quegli accorgimenti che, come vi ho detto a inizio video, servono per creare una narrazione più lineare alcune però mi sono un po' dispiaciute, ad esempio il nucleo familiare dei Godwin viene molto ridotto all'osso ad esempio è stata completamente eliminata la figura di Fanny, ovvero la sorella di sangue di Mary la figlia che Mary Wollstonecraft aveva avuto da una precedente relazione Fanny è una figura molto tragica che secondo me non avrebbe sfigurato in questo film però forse avrebbe probabilmente rischiato di allungare troppo la narrazione forse l'avrebbe anche un po' troppo appesantita, diciamo, con il bagaglio di drammi perché, per dire, per chi non lo sapesse, per chi non ha visto il mio video su Mary Shelley che mi invito a recuperare, Fanny, la sorella maggiore di Mary, si tolse la vita quando Mary era già scappata con Percy e con la sorellastra Claire le motivazioni attorno a questo atto di Fanny non sono ancora oggi molto chiare banalmente probabilmente era solo malata di depressione e la situazione familiare con i problemi economici lo scandalo derivato dalla fuga di Mary e di Claire le avevano purtroppo aggravato uno stato già di per sé molto disperato è probabile che forse avesse anche cercato l'aiuto di Mary e il fatto che Mary avesse scelto di portare con sé Claire piuttosto che Fanny probabilmente aveva dato un colpo in più allo stato psicologico precario di Fanny e comunque anche la morte della sorella lasciò le sue tracce in Mary che comunque anche nel personaggio di Justine presente in Frankenstein sembra ricalcare un po' la disperazione della sorella oltre che la disperazione della prima moglie di Percy, Harriet la quale pure lei si tolse la vita quando era addirittura incinta praticamente a due settimane di distanza l'uno dall'altro si tolsero la vita prima Fanny e poi Harriet per motivi totalmente differenti ma furono talmente repentine talmente ravvicinati tra loro che Mary sentì quasi le successive sventure che le capitarono come appunto una punizione per aver contribuito in un certo qual modo alla morte di queste due povere sventurate la morte della moglie di Percy, Harriet, ci viene nominata in questo film anzi Harriet ci viene anche mostrata in un paio di scene ma serve unicamente a creare ancora più attrito nei rapporti tra Mary e Percy aggiungerci anche Fanny probabilmente avrebbe appesantito ulteriormente la narrazione forse devo dire da un certo punto di vista quindi capisco la scelta della regista però dall'altra mi è un po' dispiaciuto perché comunque Fanny era un personaggio che si pre... una figura che si prestava molto a livello narrativo poi vengono molto... come dire... viene anche un poco sul finale diciamo semplificato anche la questione dei figli di Mary e di Percy nella scena finale la vediamo con un bambino che probabilmente potrebbe darsi che fosse il... potrebbe essere a livello di tempistica non è ben chiaro perché non si capisce bene l'ultima scena quando sia ambientata a una prima visione si potrebbe pensare che sia ambientata pochi anni dopo la penultima scena quindi questo figlio potrebbe essere il secondo figlio, William però lo si vede un po' troppo grandicello e William morì a tre anni quando Mary e Percy si trovavano in Italia ebbero anche un'altra figlia, una terza figlia, Clara che pure morì in Italia e sempre in Italia nacque un quarto figlio, Percy Florence che fu l'unico che raggiunse l'età adulta ecco mi verrebbe quasi da pensare che la scena finale, proprio l'epilogo possa essere invece un salto in avanti nel tempo addirittura quindi dopo la morte addirittura di Percy perché buona parte degli anni successivi alla pubblicazione di Frankenstein Mary e Percy li passarono in Italia dove appunto poi sarebbe morto Percy, sarebbe morto annegato in mare quindi questa scena, quindi con questa Mary chiaramente un po' più adulta con questo figlio già un po' più grandicello con il quale cammina per strada si ferma davanti alla vetrina della libreria di suo padre e vede messo sulla vetrina in vetrina il suo romanzo con tanto del suo nome di autrice potrebbe quindi essere quindi un salto in avanti successivo alla vita di Mary, quindi dopo quando già era ancora vedova ma probabilmente è una mia interpretazione personale poi ci viene anche ben rappresentato con poche scene il rapporto d'amicizia che ci fu tra Mary e John William Polidori il medico slash amante di Lord Byron non ci viene mai specificato il rapporto tra Byron e Polidori secondo me potevano mettercelo almeno un lieve accenno anche perché si punta molto al rapporto tra Byron e Claire in molte scene però si vede che anche qui così come c'è la disillusione di Mary per Percy c'è anche la disillusione di Claire per Lord Byron quindi potevano magari metterci un piccolo accenno anche al legame tra Byron e Polidori anche perché qui si vede anche la similitudine tra Polidori e Mary infatti così come vediamo che Mary scrive Frankenstein proiettando comunque la sua rivalità anche col compagno con Percy sappiamo che ci viene lasciato chiaramente intendere che Polidori scrive il suo racconto il vampiro proiettando la sua diciamo non dico rivalità ma il suo contrasto con Lord Byron e infatti Polidori alla fine quando si vede con Mary quando le porta il suo racconto che è stato pubblicato e attribuito a Lord Byron lui le dice abbiamo creato entrambi dei nostri mostri ma non dobbiamo permettere loro di divorarci proprio a lasciare intendere che così come Polidori da Byron ha tirato fuori il suo vampiro Mary la creatura da Percy ha tirato fuori il suo creatore il dottor Victor Frankenstein colui che prima dalla vita però poi di fronte alle prime difficoltà o alla disillusione prende, scappa e lascia la creatura alla merce della tempesta in sostanza ragazzi vi ho detto questo film è fatto veramente molto bene la sceneggiatura è ottima l'adattamento è perfetto la psicologia, il messaggio della figura di Mary Shelley è quello ragazzi è perfettamente quello è fatto è un film che secondo me è fatto da Dio veramente non ci sono nemmeno troppe sbavature magari in alcuni punti può sembrare che stia accelerando ma in realtà nemmeno tanto perché qui si vede proprio la maestria della regista che ha saputo destreggiarsi bene in una narrazione di per sé non facile perché è molto complessa la storia di Mary Shelley e ci è riuscita perfettamente tramite anche certi ausili narrativi come ad esempio la costruzione narrativa intervallata dai monologhi di Elf Henning fatti benissimo che accompagnati poi a una musica bellissima ti rendono la visione molto artisticamente proprio un piacere per gli occhi poi beh vi ho già detto buona parte del cast principale quindi abbiamo Elf Henning nel ruolo di Mary Shelley un Douglas Booth che come è Percy Shelley ve l'ho detto se la cavicchia per il Percy che è stato rappresentato in questo film quindi diciamo per un attore delle sue modeste capacità ha fatto veramente il suo diciamo che il personaggio gli è stato costruito proprio alla perfezione proprio esattamente come doveva essere poi abbiamo Tom Sturridge come vi ho detto nel ruolo di Lord Byron Bell Poley nel ruolo di Claire Claremont poi nel ruolo di John William Polidori c'è Ben Hardy e in una piccola particina di un ruolo che sta soltanto all'inizio del film abbiamo Maisie Williams L'Aria Stark di Doctor Who in una veste veramente inedita non mi immaginavo che avrei mai visto Maisie Williams in Maisie Williams in un ruolo molto passatemi il termine molto femminile femminile nel senso più tradizionale più a e più vecchio del termine quindi una una fanciullina uscita fuori da un romanzo di Jane Austen infatti interpreta Isabel Baxter che fu una amica di Mary la figlia della famiglia Baxter dalla quale Mary andò a trascorrere un certo periodo quando andò in Scozia hanno giusto poche scene lei compare solo nella nel primo quarto d'ora di film serve giusto per creare un po' il terreno alla presentazione tra Mary e Percy ma è stato particolare vedere Aria vedere Maisie Williams in una veste totalmente diversa dalla quale sono abituato a vederla perché a parte Aria Stark in Game of Thrones dove l'ho vista l'ho vista in Doctor V quando ha fatto il ruolo di Ashilder che era pure un ruolo molto all'aria Stark quindi molto da donna combattente qui invece per la prima volta ha interpretato il ruolo di una semplice ragazza di buona famiglia di epoca Regency molto dolce molto piccolina che vabbè piccola già lei di fisico sembra sempre una bambina ed è stato bello vederla in questo ruolo perché mi ha fatto capire che è veramente un'attrice che anche lei può è capace di fare tutto non è quindi è stato ottimo secondo me darle anche questo ruolo perché serviva serve a non fare se no diciamo che Maisie Williams rischiava di rimanere incastrata nel ruolo tipico di Aria Stark quindi secondo me dimostrare che lei è capace di fare anche un ruolo che magari può non sembrare nelle sue corde e soprattutto dimostrare di averlo nelle sue corde ha dimostrato è servito per far capire che lei può fare di tutto può fare anche lei può fare qualunque parte quindi io mi auguro che anche Maisie Williams possa avere tanti ruoli diversi nella sua carriera di attrice così come augura Elle Fanning di avere tanto altro successo perché veramente ve l'ho detto ragazzi è stata una Mary Shelley perfetta secondo me nessun'altra attrice più di lei poteva interpretare Mary restituendo c'era proprio come se fosse stata viva ai giorni nostri senza snaturarla senza renderla troppo moderna come si tende a fare al giorno d'oggi con molte figure artistiche l'ha resa esattamente attuale per la sua epoca come anche per la nostra perché Mary Shelley è una figura molto attuale da un punto di vista della sua poetica e Elle Fanning ha dato un'interpretazione secondo me bellissima magistrale non penso di poter dire altro quindi io concludo qua la mia videorecensione spero di cuore che vi sia piaciuto lasciatemi un like se così è stato commentate ditemi la vostra su cosa ne avete pensato voi di questo film se l'avete visto o non l'avete visto vi è piaciuto o non vi è piaciuto cosa ne avete pensato cosa ne avete pensato dell'interpretazione di Elle Fanning vi è piaciuto Douglas Booth come Percy a me continuo a non dire niente come attore però forse sono io che non riesco a comprenderlo vabbè ditemi la vostra nei commenti magari se conoscete qualche altra sua interpretazione in cui magari spicca un po' di più non lo so in tutti i ruoli che l'ingui l'ho visto non mi ha mai detto niente quindi sono curioso di conoscere la vostra la vostra opinione su questo film iscrivetevi al mio canale per rimanere aggiornati sui miei prossimi video mettete mi piace alla mia pagina facebook seguitemi anche su instagram sempre se volete vi ricordo che se volete sostenere il mio canale vi lascio la mia wish list di amazon qui giù nell'info box oppure potete acquistare i libri e i film di cui vi parlo dai link di affiliazione amazon che vi lascio sempre qui giù nell'info box e dal vostro elusio è tutto ci vediamo alla prossima e ciao